bentornati su mente digitale questo è l'unboxing di x skate l'overboard che ho appena comprato e a ruote di 10 pollici un'autonomia circa di 20 chilometri da manuale così dicono speriamo che sia vero un peso massimo trasportabile di 130 chili riesce ad andare comunque a camminare su una pendenza di 30 gradi ed è resistente ovviamente all'acqua gli spruzzi ma quello lo sono un pochino tutti andiamo ad aprirlo all'interno troviamo il caricabatterie questo è sicuramente il caricabatterie eccolo qua e ora vediamo gioiellino allora come si può vedere le ruote sono più grosse del normale l'ho scelta apposta perché dovrebbe dare meno problemi in caso di piccoli dossi o piccole o piccoli gradini ecco e anche l'autonomia dovrebbe essere maggiore rispetto ai 15 chilometri soliti come ho detto questo qui saranno 20 e adesso non mi resta che provarlo e vedere di non spaccarmi tutto